Siamo così abituati a pensare che quando si parla di abbondanza ci si riferisca ai soldi, a più risorse materiali. Certo, quelle sono parte del concetto di abbondanza, ma l'abbondanza nasce da un atteggiamento mentale, un atteggiamento mentale e un atteggiamento emozionale. Dobbiamo aprirci all'idea di abbondanza nella nostra vita di ogni giorno, a prescindere da quante risorse materiali o finanziarie abbiamo a disposizione. E quelle molto probabilmente arriveranno come bonus del fatto di aprirci ad un atteggiamento mentale che è assolutamente aperto ad accogliere l'abbondanza. Ora, mi piace moltissimo la definizione che David Simon, che è il cofondatore del centro Deepak Chopra in California, dà del concetto di abbondanza e qui ve lo leggo per evitare di dimenticarmi qualunque parola importante. Lui dice, l'abbondanza è uno stato mentale in cui credi dentro di te di essere creativo, riconosci che l'universo è abbondante e che tu sei un'espressione di quell'universo. Ora, lo so, è molto più facile a dirsi che a farsi, soprattutto per la società in cui viviamo, una società che non fa altro che abituarci all'idea di concentrarci su quello che ci manca. Non facciamo altro che andare a letto la sera pensando a quello che non siamo riusciti a fare durante il giorno e ci svegliamo la mattina con, di solito, il pensiero di non aver dormito abbastanza. Ci concentriamo costantemente su tutto ciò che ci manca, anziché concentrarci su quello che desideriamo. Ora, il modo più efficace per aprirsi all'abbondanza consiste nel cominciare ad allenare la nostra mente, ad aprirsi, ad accogliere questa abbondanza ogni singolo giorno e quale modo migliore e più entusiasmante di farlo se non con l'intera tribù Omnama. E così ad Omnama abbiamo deciso di lanciare la sfida dei 7 giorni di abbondanza. 7 giorni in cui affronteremo insieme esercizi pratici molto potenti per cominciare ad aprire la nostra mente e il nostro cuore al concetto di abbondanza. Una settimana per allenare la nostra mente a vivere in una prospettiva di costante abbondanza anziché di scarsità. D'altronde, come possiamo attrarre nelle nostre vite più di ciò che desideriamo se non facciamo altro che concentrarci su ciò che ci manca? Ma concentrarci su ciò che ci manca è esattamente quello che il 99.9% di noi fa ogni giorno in modo praticamente automatico. E allora è il momento di mettersi al lavoro e cominciamo oggi con un primo potente esercizio pratico per aprire la nostra mente e il nostro cuore alla vera abbondanza. Qualunque cosa tu stessi facendo poco prima di vedere questo video, qualunque cosa ti aspetti nel corso del resto della giornata, prendi carta e penna o qualunque dispositivo su cui puoi scrivere e comincia a fare una lista di due, tre o più segnali di abbondanza che l'universo ti ha in qualche modo comunicato oggi, fino a questo momento della tua giornata. Non c'è risposta giusta o sbagliata, potrebbe essere il fatto di essere circondato da persone che ami, il fatto di esserti svegliato stamattina accanto alla persona che ami, o il fatto di avere a tua disposizione un lettone in una splendida stanza da letto che hai arredato con le tue mani, o il semplice fatto di poter andare al lavoro stamattina, un lavoro che per quanto stancante ti fa sentire così realizzato. Non c'è veramente un metro di giudizio che stabilisca la dimensione di questi segnali, quello che voglio dire è che qualunque prova, anche quella che all'apparenza è più insignificante, è un segnale dell'abbondanza che l'universo ha nei nostri confronti e del fatto che veramente abbiamo a disposizione tutto ciò che ci serve, se soltanto ci apriamo all'idea che questo sia davvero possibile. Se anche trovi un centesimo oggi per la strada, invece di sdobbarlo pensando ah è solo un centesimo, che cosa ci faccio? Pensa invece ad accoglierlo e a ringraziare dentro di te l'universo per questo piccolo, per quanto piccolo segnale di abbondanza, per questa prova e queste prove che l'universo ci fornisce costantemente, se solo riusciamo ad accorgercene. D'altronde diventare coscienti dei nostri pensieri è il primo step per aprirci ad un mondo di infinite possibilità, possibilità di abbondanza, possibilità che prima non notavamo nemmeno, perché eravamo così concentrati a lamentarci di quello che ci mancava. E allora benvenuto alla sfida dell'abbondanza. Prenditi subito due minuti di tempo per scrivere nero su bianco quali sono le prove che oggi stesso, fino ad ora, l'universo ti ha mandato per comunicarti che sei già ricco, che non ti manca nulla, a prescindere da quale sia la tua corrente situazione sentimentale o la tua attuale situazione economica. E ricorda che i segnali che condividerai saranno un'incredibile fonte di ispirazione per chi in questo momento della propria vita sta facendo un pochino di fatica ad individuarli e accoglierli. E non solo, ma scateneranno un vero e proprio vortice di abbondanza, non soltanto per te, ma anche per chi ti sta a cuore e ti circonda in questo momento della tua vita. Che la sfida abbia inizio!